Domani la seconda amichevole stagionale del Palermo ancora qui al centro sportivo Acquagranda di Livigno. I rossanero giocheranno con una squadra della terza divisione svizzera, il Rappersville. Poi sabato ci si sposterà a Temu a pochi chilometri a Ponte di Legno in provincia di Brescia per affrontare un avversario di Serie A, il Monza. Quando il Palermo invece andrà a svolgere la seconda parte della preparazione in Inghilterra sono programmati altri due incontri amichevoli. Il primo giorno 26 contro il Leicester che è ritornato in Premier League, il secondo il 3 agosto contro l'Oxford che invece gioca nella seconda divisione inglese. Oggi ha ripreso a lavorare con il gruppo il difensore Ceccaroni, dunque l'unico che resta ancora da recuperare definitivamente è il portiere De Plansch. Ieri sera è arrivato qui a Livigno il presidente Dario Mirri che questa mattina è a bordo campo da assistere all'allenamento. Grande abbraccio con Brunori, si spera che sia all'inizio di un periodo di serenità che tanti tifosi non hanno riscontrato. È stata ufficializzata l'operazione che porta in maglia a Rosanero l'attaccante Henri che ha giocato l'ultima stagione nel Verona. A proposito di Henri c'è già un Thomas Henri che ha scritto la storia e che l'ha scritta a Manchester. Alla fine del 1700 Thomas Henri, pronuncia inglese Thomas Henri, ma il nome è lo stesso, realizzò il primo stabilimento di produzione di acqua frizzante nel mondo. Dunque ha avuto il merito, entrando nella storia, di dare il via alla commercializzazione dell'acqua gassata. Doppia seduta di allenamento, oggi il tempo non è dei migliori, come vedete alle mie spalle. Domani per la partita contro il Rappersville l'ingresso sarà libero, non è atteso un grande numero di sostenitori perché il giorno infrasettimanale le condizioni del tempo non favoriscono proprio i trasferimenti. Da Livigno, dal centro sportivo Acqua Granda è tutto, ricordando sempre l'appuntamento con Siamo Aquile ogni giorno in onda su TRM alle 20.10, alle 21 e alle 23 e la linea può tornare al telegiornale.